perciò e mamma quando devo fare un lavoro si è il fatto perché ebbè quando va la sua spesa ci si fa doveva io non mi chiedo non mi chiedo non mi chiedo ti chiedo è che c'è non mi chiedo non mi chiedo e basta no quel punto invece di nuovo tutte le due magari mi faccio vedere nel più ma non mi chiedo ma non mi chiedo ma non mi chiedo manco non ti chiedo come non mi chiedo ma non mi chiedo non mi chiedo altre cose si è l'unico e ci sono e non mi chiedo ci sono dice tu allora ragione Mamma mia, voglio sapere che non va a fare la casa quella? Ma mamma mia, voglio sapere che non va a fare la casa quella? Ma mamma mia, voglio sapere che non è giusto a fare la casa quella? Eh, perché? Quando fa la casa quella? Ma cosa hai fatto? Eh, dove fai per la coseta? Dice il nipò? Eh, felicità, non è felicità! E va a te, e va a te! Dice tu, eh! E va a fare la casa quella? E se no non va a la casa mai! Oh, chiama? Grida, grida tu mamma! Sì, lui, voi! Ma mamma mia, mamma mia, mamma mia, che nota! Ma se non è che no, mi hai lusata? Anzi, ti posso avvenziare, Giuseppe! Ma mamma mia, mamma mia, dove sta? Ma io la sei la prima prima domanda perché l'ha fatto! Non l'ha diventata! No, è che è schiavo, mia... E allora se... Ma è un amore assoluto, è tutto da qui tutto questo, non pia! E quale è lì? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.